ciao ragazzi ben ritrovati siamo laboratorio come sempre torniamo a parlare di pini silvestre pini neri pentafilla bianco nero pino verde pino rosso pino bianco non se ne può più di tutta sta gente che fa le super divisioni no pianta per pianta come se poi in certo punto bisogna scriversi nel dettaglio come tirare fuori un risultato per ogni specie che abbiamo no si chiede capire intanto perché la pianta inizia a virare colore di alcuni aghi in questo periodo diventano un pochettino gialli sul gregino quelli sono aghi da togliere da far saltare si chiede capire invece la pianta inizia a cambiare colore degli aghi perché avete sbagliato tutto ok non qualcosina tutto ok ragazzi iniziamo a parlare con la concimazione per quanto riguarda i pini ragazzi c'è un sacco di confusione un sacco di gente che dice no troppo zotto il pino troppo zotto brucia tutti gli aghi dovete sempre cercare di capire se quello che vi dicono poi sono linee guide riportate con dei risultati perché sennò diventa paura ok pura paura che si diffonde sui social da gente che non ha neanche le piante molto spero il 99 per cento dei casi come sapete ragazzi concimo le piante tutto allo stesso modo ci do come una bestia assassina senza pietà non mi interessa non mi interessa chi dice a b c non mi interessa concimo tutto allo stesso modo faccio lavorare al massimo la pianta senza troppe domande pugnette varie quindi per quanto riguarda la concimazione sapete già cosa utilizzare in questo periodo ovvero detonation alfa nanotech krypton e biodoped questi sono i quattro prodotti per l'estate che si usano sui nostri bonsai e pre bonsai se volete un risultato se volete una pianta che sta bene poi se il vostro obiettivo è scaccolarvi con i mignoli cercando la minuzia no oppure volete perdere tempo sui libri e a spapolarvi il cervello per sapere vita morti miracoli di cose che non hanno senso ragazzi ricordate sempre che l'obiettivo è fare bene quattro cose e via tutto il resto via ok quando fate bene con le quattro cose ripetite ripetete sempre quelle problemi non ce ne saranno mai tornando noi per quanto riguarda gli aghi gialli allora come già detto se la pianta inizia a scartarli ci sono vari motivi primo motivo ragazzi è che magari arriva l'autunno ha iniziato a maturare la vegetazione gli aghi vecchi inizia a buttarli via no quindi allarme zero non allarmatevi togliete semplicemente tutti gli aghi che magari iniziano a staccarsi da solo come si fa già se fate così con una mano saltano via tutti no perché sono quelli che stanno già saltando e quindi buona cosa non andare a strappare a molto spesso dando una scrollata così viene giù il mondo ok quindi non c'è bisogno di stare lì a a strappare soprattutto su piante che hanno pochi aghi perché è la cazzata più grande che potete fare seconda ipotesi la pianta scarta gli aghi perché c'è un problema ok problema qual è non è assolutamente perché avete annaffiato troppo quindi chi vi sta dicendo ha innaffiato troppo quindi la pianta fa lago giallo no via via subito non è assolutamente perché avete concimato troppo ok se avete rispettato le regole che sono semplicissime quindi chi vi dice no troppo azoto dovete rispondergli ma tu che cazzo ne sai di cosa bisogna dare un pino silvestre che non sai neanche cosa devi mangiare tè a colazione no il discorso qual è in natura come vedete ragazzi le piante stanno lì molto spesso muoiono perché primo nessuno gli dà da mangiare secondo in caso di siccità nessuno le annaffia quindi crepano un altro caso piove per una settimana piove per dieci giorni piove per quindici giorni cosa succede la pianta inizia a ingiallire gli aghi e muore no questo perché perché anche in natura come in un vaso se c'è un substrato specifico l'acqua che è in eccesso tenderà sempre a drenare sotto e quindi ad uscire dei fori di drenaggio e in natura andrà giù nelle montagne andrà due cazzo di pare però semplicemente dovete capire che se avete un substrato che funziona che è fatto apposta per il pino potete andare quanto cazzo volete è inutile continuare a dire no troppo acqua poca acqua il problema è che avete un substrato che non va bene per l'essenza che avete sotto sopra ok molto semplicemente io questo pino lo sto annaffiando tutti i giorni ok non è una volta settimana annaffiolo ogni tre giorni annaffiolo ogni quattro giorni che cazzo vuol dire ragazzi se c'è il substrato giusto si annaffia sempre un altro punto muschio visto come stai chiedendo in tanti amo il muschio soffoca le radici bla 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 se vedete video di giardini super maestri giapponesi noterete che le piante su hanno il muschio tutte le volte c'è una montagna di muschio questo perché è muschio che viene fuori dallo sfagno quindi da un qualcosa messo sopra che va bene e quindi il muschio che viene da quello andrà bene c'è utilizzato muschio che raccogliete dove c'è il piscio di gatto piscio di cane la merda le mosche le uova d'insetto talaragni e storie varie ovviamente andrete incontro a delle problematiche ok quindi fate le cose che dovete fare prendete tutto quello che vi serve e portate avanti i vostri lavori senza problemi però una cosa fondamentale che dovete capire non esiste il segreto per non avere problemi esiste il segreto per fare le cazzate ok che è semplicemente inventarsi qualcosa no per cercare un qualcosa che non c'è che ci deve essere secondo voi oppure semplicemente prendere consigli da dei deficienti sui social ok gente che coltivano le margherite i ciclamini quelle sono persone che non possono assolutamente darvi un consiglio questo lo dico per screditar nessuno semplicemente la verità semplicemente perché professionisti non stanno sui gruppi social tutto il giorno a scrivere ok professionisti si fanno pagare lavorano le piante e fanno quello che devono fare no quindi ci devono sempre guadagnare qualcosa ovviamente un'ultima cosa so che può sembrarvi strano che la novità può darvi una scossa può darvi fastidio so che tornare indietro sui propri passi può dar fastidio anche quello rinnegare tutto quello che si è fatto fino adesso è un colpo duro però ragazzi non dovete dar retta a chi vi sta simpatico o chi vi sta sul cazzo o chi è bello chi è brutto semplicemente se una cosa presa fa del bene a voi le vostre piante quella è la cosa che dovete prendere punto e basta ok tutto il resto viene dopo sono cose che non c'entra niente qua ci occupiamo di performance di far lavorare bene le piante fare in modo che gli aghi non diventino gialli per i problemi correlati alla coltivazione allora vi ripeto questa pianta l'ho concimata stra concimata super annaffiata super acqua questo ok è la dimensione degli aghi che ha la mia pianta che ragazzi ok quindi chi dice troppo concime l'ago diventa lunghissimo giallo vediamo un po questo è il mio mignolo avete capito ok ci credete non ci credete l'obiettivo ragazzi è sempre quello tirare fuori un bonsai a fine anno e nel minor tempo possibile quindi se io riesco a fare una cosa in un anno e voi in un anno fate la metà delle cose che faccio io ragazzi vuol dire che fra cinque anni io ho lavorato per dieci anni e voi invece per cinque vi siete presi anche dei rischi no considerate questa cosa tutte le volte che diamo di meno alla pianta lei portata a fare di meno e stare meno meglio ok è fondamentale ragazzi capire una volta per tutte che la nutrizione è una cosa che va data sempre questo perché non è vero che in estate le piante si fermano che vanno in stasi che in inverno non fa niente notturno non fa niente in ogni periodo della stagione c'è una cosa che la pianta deve fare per sopravvivere per trovare un equilibrio per la sopravvivenza quindi se togliamo la pianta non avrà quello che gli serve per fare quello che deve fare che ne so primavera allunga le candele e adesso ingrossa le gemme perché le deve poi mantenere durante l'inverno si preoccupa magari della lignificazione dei butti maturati quindi ogni volta c'è un qualcosa da fare la pianta non è mai ferma cerca di capire di non rimare contro degli esseri viventi perché se devono mangiare devono mangiare punto basta non ha senso come un bambino che deve crescere a un certo punto si tratta da mangiare non sa più come cazzo fare no a bomba ragazzi ci vediamo nel prossimo video fate le cose che vanno fatte ogni singolo mese quindi ogni 15 giorni concimate quale concime utilizzare semplicemente lo prendete nel sito tutto è diviso per stagioni ok quindi ogni stagione avete il prodotto specifico per andare avanti con i vostri risultati punto e basta mi raccomando smettete di far pugnetta di fare storie cercate di fare le cose come vanno fate date retta a claudio bonsai e non rompete i coglioni ciao ragazzi mi raccomando a bomba senza pietà piante di valore sempre di più poi le rivendete ne comprate altre che hanno più valore ancora alla fine avete una collezione della madonna ok meno pugnette più bonsai meno chiacchiere sotto mano le piante risultati e fate le potature quando quando c'è bisogno senza star lì a tagliare la cazza di cane per poi vedere la pianta crolla perché tutta una potatura stretta ad agosto non ha senso non va affatto ok ciao a tutti ragazzi a tutti ragazzi